Benvenuti a Space News da Universo Elettrico, offerto da The Thunderbolts Project su thunderbolts.info Nei tempi moderni, nessuna figura ha rappresentato in modo più prominente il titolo del genio del fisico teorico Albert Einstein, l'uomo del secolo della rivista Time. Le teorie di Einstein sulla relatività speciale generale continuano a modellare gran parte del quadro teorico della cosmologia. Tuttavia, contrariamente a quanto si crede, non tutti gli esperimenti hanno confermato le teorie di Einstein. Infatti, in un episodio di Space News all'inizio di quest'anno, il fisico Walt Thornhill ha discusso la recente conferma sperimentale della cosiddetta spettrale azione a distanza, o entanglement quantistico. Innumerevoli titoli scientifici in tutto il mondo dichiarano che Einstein aveva torto. Tuttavia, come spiega Walt Thornhill, in questo episodio in due parti, in occasione del centenario della teoria della relatività di Einstein, la convinzione che Einstein avesse ragione continua a persistere. Parla Walt Thornhill. I titoli dei giornali recenti celebrano il centenario della teoria della relatività di Einstein. Ma cosa c'è veramente da festeggiare? Non ci sono state scoperte scientifiche fondamentali in quel periodo. La relatività e la teoria quantistica restano più che mai incompatibili. Se Einstein avesse torto, avremmo sbrecato un secolo. Quindi un recente esperimento è importante perché ha screditato ancora una volta la teoria della relatività di Einstein, solo che questa volta tutte le scappatoie dell'esperimento sono state chiuse. Il concetto della fisica quantistica, che più detestava, spettrale azione a distanza, come la chiamava, era stato dimostrato. È un risultato profondamente importante perché conferma che esiste un sistema di segnalazione, una forza che collega istantaneamente frammenti separati di materia. La velocità della luce di Einstein non è la barriera da lui postulata. L'universo è un sistema coerente e connesso. Per progredire, ancora una volta, dobbiamo dimenticare Einstein. È un compito ingrato ed estremamente difficile mettere in discussione le convinzioni di lunga rata delle autorità e non c'è fede più forte di quella che Einstein era un genio di prim'ordine. Questa storia ci viene propinata fin dalle scuole elementari. I media la raccontano incessantemente. Siamo soggetti all'indoltrinamento. La vera storia di Einstein sarebbe un buon seguito della parodia dei veri credenti dei Monty Python nel film La vita di Brian, dove nessuna quantità di argomenti o prove contrari influenzerebbe la folla adulatrice. Come lo sfortunato Brian nel film Einstein rinnegava inutilmente i suoi adoratori. Nello Scientific America del 23 agosto 2015 si riporta che Einstein abbia affermato «Non sono Einstein». Ma l'autore John Hogan, come devoto, aggiunse con reverenza. Oltre a tutte le sue altre qualità, l'uomo era modesto. Perché la gente pende da ogni sua parola su un numero qualsiasi di argomenti non correlati ma su questo argomento molto personale che è stato ignorato? Sfortunatamente gli studenti di scienze fisiche sono così impegnati a patroneggiare le basi del campo prescelto che non hanno né il tempo né la voglia di rivisitare il contesto storico e politico, le ipotesi avanzate, lo scontro di personalità e gli ottimi argomenti contro la teoria della relatività. Tuttavia questi sono requisiti del metodo scientifico quando non viene fatto alcun progresso, un riesame di come e perché abbiamo accettato una teoria. Scienziati e matematici oggi presumono che tutto ciò che è accaduto prima sia impeccabile e possono quindi procedere in sicurezza senza mai voltarsi indietro. Loro e la maggior parte dei loro insegnanti rimangono inconsapevoli dei presupposti nascosti e non dichiarati che sono inerenti a ogni campo scientifico, con la consapevolezza e misteri dell'universo come la materia oscura e l'energia oscura possono essere visti come semplici artefatti dei concetti non validi della teoria della relatività. Nel suo lavoro del 1916 che fonda la teoria della relatività generale, Einstein afferma se si sceglie un sistema di coordinate K in modo che, in relazione ad esso, le leggi fisiche valgano nella loro forma più semplice, le stesse leggi valgono anche in relazione a qualsiasi altro sistema di coordinate K che si muove in traslazione uniforme rispetto a K. Chiamiamo questo postulato il principio speciale di relatività. Detto semplicemente, questo è il primo postulato della relatività speciale. Le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Ma i pianeti in orbita e gli esperimenti quantistici mostrano che esiste una connessione in tempo reale tra la materia ampiamente separata dall'universo. Le stelle fisse possono essere considerate come un sistema di riferimento assoluto che ci riporta alla fisica classica il principio di Ernst Mach, che collega il moto del sistema inerziale locale alle stelle distanti. I sistemi inerziali che si muovono l'uno rispetto all'altro avranno velocità diverse rispetto al sistema di riferimento assoluto delle stelle distanti e, quindi, non sono equivalenti. Il primo postulato di Einstein, il suo principio speciale di relatività, non è valido. Nel 1907 Einstein si rese conto che la sensazione che una persona prova quando viene attratta verso la Terra, dalla gravità, è identica a quella che prova mentre accelera. Ha soprannominato questa concettura il principio di equivalenza. Tuttavia, con un quadro di riferimento assoluto, non sono equivalenti. Naturalmente questo non spiega come funziona la gravità. Einstein, con l'aiuto di un amico matematico di nome Marcel Grossman, confuse definitivamente la questione giocherellando con i normali concetti di spazio e tempo. Matematicamente può essere lecito etichettare un grafico di intervalli di tempo per leggere il passato, presente e futuro. Ma, fisicamente, c'è solo un adesso. Il passare del tempo universale è quando tutta la materia è connessa col tempo reale. Il tempo non può essere rallentato o accelerato. È adimensionale, non ha frecce, non esiste spazio-tempo, né la quarta dimensione. Che l'universo sia un sistema effettivamente connesso in tempo reale, almeno su scala galattica, non avrebbe mai dovuto essere messo in discussione, poiché la legge di gravità di Newton, che deriva direttamente dalle osservazioni, è istantanea. La sua famosa equazione non include il tempo. Le osservazioni mostrano che la Terra è attratta dalla posizione istantanea del Sole e non da dove appare nel cielo dopo otto minuti. Nel libro Spazio, Tempo e Gravitazione, l'emminente astrofisico inglese Sir Arthur Eddington discute questo problema. Egli osserva che se la gravità si propagasse con velocità finita, il movimento dei pianeti attorno al Sole diventerebbe instabile a causa di una coppia che agisce sui pianeti. Il problema era già noto a Newton e fu esaminato da Laplace, che calcolò un valore molto più veloce della velocità della luce. Questo fatto da solo significa che la teoria della relatività di Einstein si riduce a fornire semplicemente una prospettiva sugli oggetti in movimento rispetto a un osservatore che si affida alla luce cosmicamente lenta o ai segnali radio per effettuare le osservazioni. Il secondo postulato di Einstein afferma che la velocità della luce nello spazio libero ha lo stesso valore C in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Ancora una volta, gli esperimenti dimostrano che questo è falso. Si è scoperto che la velocità della luce varia, così come il metro standard è ora definito in termini di lunghezza d'onda della luce per forzare C ad essere una costante. Ma una semplice osservazione mostra che la velocità della luce è diversa nell'aria, nell'acqua e nel vuoto. Il vuoto deve essere un mezzo materiale e lo spazio non è vuoto. C'è un mezzo etere, come veniva chiamato, essenziale nella teoria elettromagnetica James Maxwell e Oliver Heaviside. Heaviside scrisse, l'etere è una cosa davvero meravigliosa. Può esistere solo nell'immaginazione dei saggi, essendo inventato e dotato di proprietà per soddisfare le loro ipotesi. Ma non possiamo farne a meno. Come può l'energia essere trasmessa attraverso lo spazio senza un mezzo? Eppure, dall'altra parte, la gravità sembra essere indipendente dal tempo. Forse questa è un'illusione. Ma, ammettendo che l'etere propaghi la gravità istantaneamente, deve avere proprietà meravigliose, diverse da qualsiasi cosa che conosciamo. Il secondo postulato di Einstein richiedeva un etere magico per mantenere costante la velocità della luce in tutti i sistemi di riferimento, indipendentemente dal loro movimento. In un discorso del 5 maggio 1920 all'Università di Leiden, in Olanda, ha detto, questo etere non può essere pensato come dotato delle caratteristiche qualitative dei mezzi ponderabili, come costituito da parti che possono essere seguite nel tempo. L'idea di movimento non può applicarsi adesso. Ma non esiste mezzo incapace di movimento. Un tale mezzo non potrebbe trasmettere energia attraverso lo spazio poiché l'energia è materia in qualche forma di movimento rispetto al sistema di riferimento assoluto di Mach. In precedenza, nel discorso, Einstein aveva notato le caratteristiche richieste al mezzo per soddisfare Maxwell e Heaviside. Sembrava fuori discussione che la luce dovesse essere interpretata come un processo vibratorio in un mezzo elastico e inerte che riempie lo spazio universale. Sembrava anche una conseguenza necessaria dal fatto che la luce capace di polarizzazione in questo mezzo, l'etere, dovesse avere la natura di un corpo solido perché le onde trasversali non sono possibili nel fluido ma solo nel solido. L'errore qui è riferirsi a un solido. Ciò che serve è un mezzo elettricamente neutro ma polarizzabile di massa quasi nulla. Wolfgang Paul nel 1930 predisse una particella, il neutrino, che rispondeva a questi requisiti. E solo quest'anno è stato assegnato un premio Nobel per la conferma che ha una massa variabile incredibilmente piccola. In altre parole è elettricamente neutro ed elettricamente polarizzabile, il che traduce in una massa variabile. I neutrini polarizzati possono ruotare per trasmettere onde elettromagnetiche trasversali alla velocità della luce e collegare a margherita la forza di gravità elettrica longitudinale diretta più statica immediatamente. La differenza è simile a quella tra agitare un'estremità di una corda e tirarla. Il movimento dell'onda impiega tempo per raggiungere l'altra estremità, mentre lo strattone è quasi istantaneo. Poiché i neutrini hanno massa, formeranno una sorta di atmosfera eterica attorno a corpi come la Terra e il Sole. E come la nostra atmosfera, l'etere viene trascinato dalla Terra e va alla deriva come un vento per gli osservatori sulla Terra. Questa deriva dell'etere fu rilevata dall'esperimento di Michelson e Morley e in modo più convincente da Dayton-Miller in diversi luoghi e in diverse altitudini. Miller trovò un residuo che gli permise di concludere che i corpi ponderabili come la Terra trascinano con sé l'etere. La velocità della luce non è una costante in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Einstein, una lettera a Edwin S. Lawson nel luglio 1925, ha scritto «La mia opinione sugli esperimenti di Dayton-Miller per la seguente». Se il risultato positivo fosse confermato, allora la teoria della relatività speciale e con essa la teoria generale della relatività, nella sua forma attuale, non sarebbe valida. Il riuscito seppellimento del lavoro di Miller sarebbe un buon documentario. Il secondo postulato di Einstein non è valido. È interessante notare che il ripristino dell'etere spiega la deflessione della luce proveniente da una stella lontana da parte del Sole, semplicemente come un effetto di rifrazione. La gravità non ha un'influenza diretta sulla luce. La seconda parte è già stata pubblicata nel video che trovate sul prezioso indice alfabetico sotto la voce «Einstein e il mito della celebrità», pubblicato il 28 agosto 2016. Restate sintonizzati su thunderbolts.info. Grazie.